Nuova acqua nel canale Albani ferma la moria di anatre pesci. Gli animali rimasti agonizzanti sono stati prelevati ieri dai vigili del fuoco di Fano e consegnati alle guardie zoofile. L'apporto idrico dovrebbe evitare nuovi decessi almeno per un po' in attesa delle piogge previste per la prossima settimana. Sono passato per cui comunque chiaramente l'Enel deve anche pensare alla qualità del dettaglio urbano quindi non può assolutamente svuotare per 4 kilowatt un posto come questo che ormai sta diventando un piccolo zoo. Quindi al di là di tutto ormai è una realtà per cui pesci o meno non deve svuotare. Secondo lei qual è il motivo? Soltanto problema di siccità o forse anche inquinamento? Ma io penso che sia anche un po' di inquinamento e che non c'è più neanche l'acqua no? Sì, più problemi messi. Sì, ma c'è certo che di problemi ce ne sono molti. Che cosa ne pensa di questi animali qua nel canale? E' un bei, sono belli, fa piacere a vedere queste bestie. Comprese le nutrie tempo fa, ci fu una polemica proprio su questi animali. Sì, le nutrie, ne so se vanno da cosa queste bestie queste.